Quando avevo 16 anni mi innamorai di un ragazzo, ma così, di colpo, in un modo così pieno, totale. È come se all'improvviso tu accendi un faro nella penombra, così si trasformò il mondo in me. Ma ero sfortunata. Fu un inganno. Lui aveva qualcosa di diverso. Una sensibilità, una mollezza, una delicatezza che non era da uomo. Lui cerco aiuto da me. Ma io non sapevo, non capì niente. Sapevo solo di volargli un bene immenso. Poi, dopo poco il matrimonio, scopri tutto nel modo più tremendo. Entrando in una stanza che credevo vuota, c'erano due persone a letto. Il ragazzo che avevo sposato è un uomo più anziano, che da anni era il suo amico, il suo amante. Dopodiché facciamo finta di niente tutti e tre. Quella sera stessa andammo fuori a divertirci, a ballare e per tutta la sera giù a ridere, a bere, a ballare, a ballare. Ballammo, ballammo tanto. Poi, ad un certo punto, nel mezzo del ballo, senza potermi frenare, mi era scappato. Ho detto, ho visto, ho visto tutto, mi fai schifo! Allora, il giovane che avevo sposato si staccò da me e scappò via. Qualche momento dopo, uno sparo. Corsi fuori, tutti corsero fuori e gridavano Alan! Alan! Il giovane Grey! Si era infilato nella rivoltella in bocca. E sparato, tanto che l'incranio gli era schizzato via. E allora, il faro che si era acceso sul mondo, si spense di nuovo. E mai più, per un solo istante d'allora, ha brillato una luce tanto più forte di questo mozzicone di sigaretta.